Musica Amici di Tere Termini parte un nuovo appuntamento sulla nostra ammittente dedicato al Carnavale Termitano. Quest'anno purtroppo il Carnavale non ci sarà, lo sappiamo benissimo, purtroppo a causa pandemia, a causa virus, saremo costretti soltanto a vederlo via social, via internet. La nostra ammittente con me in persona vuole dedicare ogni giorno una piccola rubrica al Carnavale passato, facendovi ricordare tutti i Carnavali Termitani che ci sono stati. Faremo una rubrica che durerà una quindicina di minuti al giorno, ma rivedremo interviste, rivedremo immagini del Carnavale degli anni 50, del Carnavale del 2000, insomma rivedremo un po' tutto. Almeno questo ci darà la possibilità di vivere in questa atmosfera del Carnavale che purtroppo quest'anno la viveremo solo via social. Io vi do appuntamento quindi ogni giorno su Tere Termini con questa rubrica dedicata al Carnavale che chiameremo Carnavale Termitano in pillole. Grazie e buona visione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.